Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi continueremo il progetto iniziato nel video scorso dove cercheremo di ottenere al clic sulla bandierina verde una lista di numeri casuali unici. Iniziamo! Dove eravamo rimasti? Avevamo creato la nostra variabile numero che sarà utilizzata come variabile d'appoggio per memorizzare il numero casuale compreso tra 1 e 10 che verrà estratto e che poi verrà inserito all'interno della lista di numeri. Quindi, ora che abbiamo la variabile, possiamo controllare il valore del numero controllando se quel numero specifico è già presente nella nostra lista di numeri e, qualora non fosse presente, possiamo aggiungerlo. Altrimenti, non dobbiamo fare niente. Per fare tutto questo, utilizziamo un controllo. Eccolo qui, il controllo che ci interessa. Se è qualcosa, allora. Altrimenti. Noi dobbiamo controllare che il numero casuale, quindi il contenuto della nostra variabile numero, non sia presente nella lista numeri. Quindi, questo controllo funziona in questo modo. Se condizione da verificare, allora fai qualcosa, quindi esegui il codice presente qui nel primo spazio, altrimenti fai qualcos'altro, quindi esegui il codice del secondo spazio. Come funziona questo controllo? Se condizione, allora si esegue il codice inserito nel primo spazio, altrimenti si esegue il codice inserito nel secondo spazio. siccome la condizione che si inserirà qui potrà essere soltanto o vera o falsa. Se la condizione è vera, si eseguirà questo codice, il codice che verrà inserito qui, altrimenti si eseguirà quest'altro codice. Considerando che un codice viene eseguito solo se è vera e l'altro codice solo se è falsa, la condizione, ovviamente le due parti di codice inserite all'interno di questi spazi non potranno essere eseguite insieme, non potranno mai essere eseguite entrambe, ma solo una delle due. Nel nostro caso specifico ci interessa che il numero casuale, il numero memorizzato nella variabile numero, non sia presente nella lista di numeri. Quindi, se il numero è presente nella lista di numeri, allora non fare nulla, altrimenti se il numero non è presente, quindi questa condizione ci restituisce falso, è falsa questa condizione, quindi altrimenti aggiungi il numero nella lista di numeri. Come facciamo a controllare se un numero, un valore o qualunque altra cosa è presente nella nostra lista di numeri? Abbiamo il controllo già pronto qui. Lista di numeri contiene qualcosa. Vedete che qui questo controllo ha gli angoli, agli angoli, è squadrato, non è rotondo come gli altri. Questo è perché è un controllo e si incastra perfettamente all'interno di questo blocco giallo. Quindi inseriamolo. Se lista di numeri contiene il numero casuale, allora non fare assolutamente niente, perché il numero è già presente, non dobbiamo aggiungerlo, altrimenti se non lo contiene, aggiungi il numero casuale alla lista di numeri. Benissimo. Quindi questo è il codice e questo è il comando per aggiungerlo, lo spostiamo qua e aggiungiamo il nostro controllo al blocco di codice. Perfetto. Se lista di numeri contiene numero, allora niente. Altrimenti aggiungi numero a lista di numeri. Perfetto, esattamente quello che volevamo. Ora abbiamo un controllo sicuro che ci permette di non inserire due volte il numero che è già presente nella lista. Però se guardiamo qui notiamo che c'è un buco nel codice. Se lista di numeri contiene numero allora niente. Ora non è sbagliato. Tecnicamente è giusto. Il programma funziona. Non da errori, non dovrebbe dare nessun errore, non è sbagliato. Il problema qual è nel lasciare un buco del genere? Il codice rimane poco leggibile. Quindi se io tra un mese riapro questo codice o se voglio estendere questa porzione di codice questo programma per fare un gioco o qualunque altra cosa qui trovo un buco nel codice che a prima vista non riesco a spiegarmi non riesco comunque a ricordare perché l'ho lasciato dovrei rileggere tutto il codice cercare di ricapire la logica iniziale e vedere un po' come utilizzarlo. C'è un modo un pochino più elegante un pochino più pratico per scrivere lo stessa la stessa logica come funziona se lista di numeri contiene numero allora non fare niente però se lista di numeri invece che controllare se il numero è presente controllasse se il numero non è presente noi avremo bisogno di un solo blocco di codice non servirebbe l'altrimenti perché l'altrimenti sarebbe nulla se qui fosse se lista di numeri contiene se lista di numeri se qui fosse se lista di numeri non contiene numero allora aggiungi il numero quindi dovremmo negare negare questa affermazione abbiamo un operatore per farlo ed è questo qui il non questo blocco verde nega i nostri controlli le nostre condizioni se una condizione è vera mettendoci il non quindi la negazione diventa falsa se una condizione è falsa diventa vera nel senso lista di numeri contiene numero se io ci metto il non lista di numeri non contiene il numero quindi la sto negando benissimo possiamo fare questo lista di numeri non contiene numero ok è lo stesso controllo che abbiamo fatto prima ma al contrario se ora aggiungo il controllo aggiungo questo controllo al blocco giallo ottengo se lista di numeri non contiene il numero allora allora cosa faccio allora aggiungo il numero a lista di numeri quindi questo blocco di codice da sotto che era quindi stava in altrimenti noi lo spostiamo nell'unico caso che può esistere se lista di numeri non contiene il numero allora aggiungi il numero a lista di numeri perfetto qui adesso però ci rimane un vuoto un blocco sotto perché non esiste più un altrimenti altrimenti che cosa altrimenti niente se lista di numeri non contiene il numero allora lo aggiungi altrimenti se lo contiene non devi fare nulla in questo caso cosa possiamo fare per eliminare questo questo buco possiamo utilizzare questo controllo qui che non ha bisogno di una componente di altrimenti non ha bisogno non utilizza una una seconda possibilità vedete se condizione allora fai questo basta non esiste altrimenti quindi prendiamo i due blocchi li possiamo anche confrontare vedete è identico solo che non c'è altrimenti se io sposto questo qui e questo qui il blocco giallo lo posso tranquillamente buttare ecco qua lo rimettiamo al suo posto e leggiamo ripeti cinque volte porta la variabile numero a il numero a caso tra 1 e 10 quindi la variabile numero contiene un numero casuale e controlliamo se la lista di numeri non contiene il numero allora aggiungi numero a lista di numeri perfetto semplice chiaro conciso lo possiamo rileggere tra un anno che lo capiremo al volo questa è la differenza tra un codice scritto bene e un codice scritto male questo piccolo accorgimento ci permetterà di risparmiare un sacco di tempo se e quando dovessimo decidere di riutilizzare questa parte di codice questo programmino che stiamo riutilizzando che stiamo scrivendo ora benissimo anche per questo video è tutto vedremo nel prossimo video gli ultimi dettagli e concluderemo il codice per la generazione della lista di numeri casuali se avete domande scrivetele sotto nei commenti altrimenti come sempre potete contattarmi su facebook ciao a tutti alla prossima